La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Proviamo a fare chiarezza insieme su quanto accaduto in Senato. Cominciamo col dire che Renzi non vuole assolutamente che questo governo vada a casa. Renzi vuole condizionare questo governo secondo i diktat che gli arrivano dall'esterno perché quello che mesi fa gli hanno imposto di fare. Quindi votare no alla fiducia avrebbe significato mandare il governo e se stesso a casa. Ma Renzi sa bene che non è ancora arrivato il momento per farlo. Lo farà, ma non ancora. Votare sì alla fiducia avrebbe invece significato perdere spazio di manovra e perdere credibilità. Astenersi invece vuol dire condizionare il governo su ogni futura decisione. Ovviamente, qualora questa strategia non gli dovesse riuscire perché non ottiene quello che i suoi burattinai gli chiedono di ottenere, primo tra tutti il mess, allora potrebbe optare per far crollare tutto. Cerchiamo di capirci che vinca la strategia di Renzi o che vinca la resistenza di Conte fin quando non si andrà a votare perderanno sempre gli italiani. In questo momento, infatti, restiamo nell'ambito di uno scontro tra il male contro il male. Quello a cui stiamo assistendo, infatti, è un regolamento di Conti tra poteri forti che appartengono alla stessa cricca. Quelli che potremmo definire filo Bilderberghini o filo Deep State americano tipo Matteo Renzi e quelli filo cinesi con il Vaticano alle spalle tipo Conte. Mattarella sa bene che si tratta di un regolamento tra poteri forti, quindi un regolamento interno tra poteri forti, resta neutrale. La vittoria del bene, invece, contemplerebbe la possibilità di andare al voto, ma al momento questa non è una ipotesi e gli italiani non sono in grado di pretenderla. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it, un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.